In una splanida chiesa del Settecento, la chiesa San Francesco di Camerano in provincia di Ancona, è stata inaugurata una mostra d'arte contemporanea che raccoglie le opere di artisti di fama internazionale. Sedico Aria, mostra di punta del Caleidoscopio Festival a cura di Antonio D'Amico. Edoardo Granini di 169 Design, direttore artistico. Abbiamo inaugurato il 2 di agosto la mostra Sedico Aria a cura di Antonio D'Amico, composta da sei artisti internazionali, tra cui Marcello Chiarenza, Chris Gilmour, Angela Gleitzar, Kaori Miyayama, Gianluca Quaglia e Midat Shafik. Sono tutti artisti che hanno esposto i più importanti musei e gallerie d'arte di tutto il mondo e sono venuti qui a Camerano proprio a riscoprire il tema dell'aria con le loro opere fatte site specific per la chiesa di San Francesco. Il particolare di questa mostra è che la mostra è composta principalmente da tutte le installazioni e sono installazioni tutte sospese, quindi abbiamo installazioni in aria, abbiamo pianoforti che volano, abbiamo reti composte da migliaia di specchi che sono sospesi in aria, abbiamo aeroplani sospesi in aria, abbiamo teli di organza, teli di carta, città sospese, quindi è una mostra molto scenografica che lascia lo spettatore, il visitatore a bocca aperta. Grazie a tutti.